Un investimento per i giovani che sono futuro e presente, 3 milioni di euro per realizzare 6 campi da calcio sintetici in altrettanti comuni della provincia, Lentiai, Agordo, Calalzo, Muniai di Feltre, Sedico e Seren del Grappa. Un progetto nato un paio d'anni fa dal delegato assembleare della FIGICI provinciale Enrico Collarina che ha coinvolto società sportive e istituzioni in un lavoro di squadra ambizioso. È un investimento importante che guarda lo spirito olimpico, cioè dare delle infrastrutture importanti tutto l'anno a una provincia che sarà il cuore dello sport. Passaggio importante è la creazione di un centro federale a sedi col cui il progetto è già avanzato. Non si prevedono solamente dei campi, ma ci sarà della medicina sportiva, ci sarà dell'accoglienza, ci sarà un convitto. Quindi diventiamo attrattivi verso anche l'esterno, altre province e magari con dei cacciatori anche che provengono dall'estero. Lo sport per la crescita dei giovani per assicurare loro un'opportunità dopo due anni di pandemia. Io credo che proprio la pragmaticità della politica, che non sempre è pragmatica, ma la pragmaticità in questo caso di questa politica è veramente una speranza per il futuro dei ragazzi. I tempi di realizzazione dei campi saranno celeri, 90 giorni per l'approvazione delle opere. L'appello di Dario Bond ai comuni, non perdete tempo. Un sogno non è così lontano di vedere già a ottobre a sedico il campo sintetico.